Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà condizioni meteo buone al centro-sud, invece il nord è lambito da questi sistemi nuvolosi atlantici che portano degli acquazzoni dei temporali. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità sull'Italia con il nord che vedrà qualche nuvola di passaggio. Coinvolto in parte anche il centro-Italia, ma in questo caso si tratterà di nuvolistà per lo più alta e sfrangiata. Precipitazioni, nuovi temporali in arrivo sulle regioni settentrionali, coinvolgiano principalmente le zone montuose nelle ore pomeridiane, ma poi scenderanno in parte anche verso le zone di pienura. Qualche goccia di pioggia in giornata potrebbe interessare anche le regioni centrali versante Tirenico, ma precipitazioni davvero deboli, deboli, deboli. Andiamo a vedere quindi in definitiva che martedì ci attende con appunto qualche temporale che torna al nord, Alpi, Prealpi, regioni di Nord Oves, coinvolto anche il Ponente Ligure, si spingono fino anche al Veneto occidentale e poi qualche nuvola di passaggio, vi dicevo, nell'Italia centrale abbiamo indicato anche qualche gocciolina di pioggia nel Lazio, soprattutto al mattino. Al sud, ampie zone di sereno, temperature ancora alte nelle regioni meridionali, ma un pochino più sopportabili. Per sapere in ogni caso nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.